salivoli frazione di piombino sopra la famosa cala moresca è stupenda alle nostre spalle oggi però abbiamo una destinazione differente andiamo a vedere dei bunker della seconda guerra mondiale deposito munizioni numero uno rifugio antiaereo ed eccoci all'osservatorio astronomico punto panoramico spettacolare la vista sull'arcipelago è veramente bellissima si notano piombino le isolette cerboli e palmaiola l'isola di elba ovviamente così vicina si vede anche l'isola di capraia leggermente sullo sfondo e un bunker questo doveva essere una postazione per un cannone immagino di sì un'altra postazione per i cannoni che spettacolo ok ok scendiamo anche in questa batteria con tre aerei ovviamente sono più anche queste e anche giustamente però qualcosa si intrallega ok 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 vado io? vai bimba esploratrice ti fidi? vai a fare urbex urbex sopra di noi davanti a noi c'è una stanza? non lo so adesso guarda c'è un corridoio c'è un corridoio salutami ok ok vai proseguiamo eh? ma qua c'è la porta sono qua? eh no io ciao 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 amore dove sei? qua ah fa girotondo così ok fa girotondo e basta non c'è molto di più torni indietro da là perchè qua è chiuso cuckoo Beccami Che è bimbo urbexer Beccami Che è bimbo urbexer 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 Che è bimbo urbexer